Il Novara Football Club si presenta ufficialmente ai propri tifosi. Dopo l'esordio di venerdì sera in campionato a Salò, conclusosi sullo 0-0 e prima della gara interna di domenica 1 settembre con l'Atalanta Under-23, gli azzurri di Mister Gattuso saranno protagonisti della serata organizzata per martedì 27 agosto. Sarà l'occasione per i tifosi per conoscere anche tutti i giocatori, vecchi e nuovi. Sagra della Patata A Monte Crestesi da giovedì 22 a lunedì 26 agosto, la trentesima edizione. Tutte le sere dalle 18.30 apertura del ristorante con servizio ai tavoli. Spettacoli, danze e spazio giovani. Ti aspettiamo!